Ciao, oggi sarà un video un po' più ricreativo e voglio mostrarti come fare una mascherina a casa tua nel caso tu non riuscissi a trovarne una in farmacia o ordinarla su internet. Puoi costruirti una semplice mascherina veramente usando solo una bandana come questa oppure un tovagliolo di stoffa come questo e ti servono due elastici come questi. Quindi come fare? Ad esempio io userò la bandana e la pieghi a metà così poi la pieghi di nuovo ad un'altra metà ad avere una fascia più o meno così poi prendi un elastico e lo metti da un lato così lo inserisci nella bandana prendi l'altro elastico e dall'altra parte così e adesso pieghi all'interno più o meno in questo modo e voilà e la mascherina è fatta. Logicamente questa mascherina non equivale a quelle diciamo ufficiali che trovi in farmacia o quelle che devono essere aderenti ma può essere un ottimo sostitutivo al posto della sciarpa che spesso non è tanto pratica in quanto cade giù e quindi se ti senti più al sicuro avere la bocca protetta questa è un'ottima soluzione. Spero che il mio suggerimento ti sia piaciuto e se hai piacere puoi condividere questo video. Ciao! Grazie! Grazie!